Buongiorno, ben trovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, rassegna stampa di lunedì 17 ottobre. Apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, oggi in edicola. Partiamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Iniziamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara. Eccola qui, la cronaca in primo piano, o per meglio dire la cronaca comunale e amministrativa, se così la vogliamo definire. Sosta selvaggia, 100 multe allo stadio, strade bloccate dalle auto. Sabato scorso, raffica di verbali da 41 euro durante la partita di campionato. Pescara-Sandoria. Centro pagina dedicata alla maratona d'Annunziana, città di Pescara, con l'edizione 2016 che si è tenuta ieri in Piazza della Rinascita, che ha coinvolto tutte le strade del centro cittadino. In 1500 hanno partecipato alla classica organizzata dalla Wisp, Abruzzo e Molise. Poi la cronaca in basso, ristoratore muore in moto, stroncato da malore, si schianta a Montesilvano. Stava tornando a casa da Silvia. Poi nelle cronache, direttore in ferie, ospedali ASL a rischio caos fino al 30 aprile. Poi in provincia tutti i premi ai luminari della medicina. Poi di nuovo la cronaca, sempre da Montesilvano in questo caso, ruba alcolici al supermercato, arrestato un 23enne. Andiamo avanti con l'edizione invece di Chieti del quotidiano Il Centro. In alto vedete il titolo di apertura, negati i farmaci ai non residenti. Chieti niente e salva vita a chi dipende da altre ASL, i malati protestano. E poi a centro pagina, in questo caso la foto riguarda il calcio ed il basket. Perché per quanto riguarda il calcio non è stata una giornata positiva in generale per le formazioni abruzzesi di Serie D. In questo caso in particolare per l'Avastese ed il Chieti. Entrambe sconfitte in casa, gli Aragonesi per 2-1 con il Campobasso. Il Chieti per 4-1 all'Angelini con la capolista Matelica. E' andata male nel campionato di Serie A2 di basket anche alla Proger Chieti che è stata sconfitta. E poi vedete più in basso, grandi nella conta dei danni, i sindaci del Vastese chiedono lo stato di calamità naturale. Poi referendum, gli ambientalisti, sindaco Pupillo col sì ci tradisci. Dunque siamo a Lanciano, sindaco Mario Pupillo della città affrentana che si schiera per il sì. E poi Roma conferma per Chieti pronti 10 milioni, dunque si parla del piano di rilancio del capoluogo teatino. Infine la cronaca, siamo a San Salvo, ladri in casa nella notte, è la terza volta che accade. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro, andiamo a vedere insieme quella di Teramo. Vedete il titolo principale in alto, operata al cervello dopo l'incidente, alba adriatica, scontro tra due auto all'incrocio, 19enne, gravissima. E poi ritroviamo il titolo che abbiamo visto anche sull'edizione, sulla prima pagina del centro. Edizione di Pescara, ma l'ora in moto, muore il ristoratore 62enne di Silvi Alta. E poi a Giulianova, rianimazione chiusa per due mesi, impianto di aria condizionata da rifare, è emergenza. E poi a Teramo, giunta in crisi, la sinistra pensa alle primarie, questa la proposta di Pepe. Poi per il basket, torniamo alla Serie A2, non è andata bene alla Proger Chieti, è andata forse peggio al Roseto Basket, gli Sharks che sono stati battuti a Ferrara dall'ex coach Tony Trullo. E poi a Martinsicuro, armati, rapinano 4.000 euro al supermercato. E chiudiamo con l'edizione dell'Aquila e di Avezzano sul Mona del quotidiano il centro. Affare migranti, pestato a sangue, siamo a Castel di Sangro, lite sull'accoglienza tra titolare e gestore di un villaggio turistico. E poi il calcio, l'Aquila col paccio dei Rosso Blu di Morgia, che ora sono a meno due dall'Avetta. Invece dall'altra parte il terzo stop consecutivo dell'Avezzano, che è stato sconfitto in casa per 3 a 1 dal latte dolce Sassari. E poi la cronaca, Barisciano, cacciatore precipita e muore, vittima di un anziano caduto da oltre 4 metri di altezza. E poi siamo a Sul Mona, regala un'opera alla Pausini e diventa famoso. Questo è il caso che ritroviamo in questo articolo. E poi invece ad Avezzano il dopo stati e un'aggiunta aperta alle donne. Da Avezzano ci spostiamo nella vicina Celano, manca il prete e la messa salta, fedeli infuriati nella cittadina marsicana. Abbiamo visto dunque le prime pagine delle quattro edizioni del centro. Vediamo la prima pagina invece dell'inserto Abruzzo, del messaggero. Movida rissa nel centro blindato, pescaragenti e vigilantes schierati in Piazza Muzzi. Non bastano per la sicurezza i gestori dei locali, guardie, giurate preziosi, residenti. Bisogna chiudere prima dunque ancora problemi e polemiche per la Movida in pieno centro cittadino. E poi il motociclista muore nello schianto dopo un malore a Montesilvano, abbiamo visto anche in precedenza. E poi si torna sull'inchiesta della procura di Pescara. Tangenti, la cupola puntava sull'Aquila. Parliamo della ricostruzione post terremoto e questa è l'ipotesi proprio della procura pescarese dopo i sette arresti che ci sono stati la scorsa settimana. E poi vedete di spalla un altro titolo, rifiuti di Roma in Abruzzo ogni giorno, 170 tonnellate. In alto ci sono i titoli che invece riguardano lo sport, il Pescara. Brugman sapevamo che era dura, parla il centrocapista uruguaiano dopo il pareggio casalingo di sabato scorso allo stadio Adriatico. Con la Sampdoria Basket, doppia sconfitta in trasferta per Proger Chieti e Roseto. E poi Serie D, l'Aquila e San Nicolo vincono. Ed ora la vetta è più vicina. Abbiamo visto dunque anche la prima pagina del Messaggero. Oggi non è in edicola come ogni lunedì il quotidiano La Città. Possiamo andare a vedere dunque in questo caso i titoli principali invece dei quotidiani nazionali che troverete oggi nelle edicole. Possiamo partire dal quotidiano La Repubblica per vedere quali sono i titoli principali. Ecco qui la prima pagina. Siria, un altro colpo al califo. Cade la città simbolo dell'Isis. I ribelli appoggiati dai turchi conquistano. Dabik pronto l'assalto a Mosul. L'assalto a Mosul che si sta consumando proprio in queste ore e che è partito proprio nell'ultima notte. Poi Equitalia, sconti fino al 50%. Evasione record. E poi ancora un titolo in alto in questo caso che riguarda l'Inter. Inter nel caos, guerra aperta tra i cardi e i tifosi. Minacce allo stadio e sotto casa per l'attaccante argentino che evidentemente nonostante i gol segnati nelle ultime partite non riesce a trovare un grande feeling con la tifoseria nerazzurra. Dalla Repubblica siamo al messaggero Equitalia. Anche qui il titolo che riguarda proprio Equitalia. Maxi sconto sulle cartelle, niente sanzioni, interessi. E salta anche l'aggio del 3%. E poi liberata da BIC, città simbolo occupata dall'ISIS. Vedete nella foto i soldati della coalizione che esultano dopo aver liberato questa città simbolo che era stata occupata proprio dall'ISIS. Siamo a Roma al ritiro della Raggi. I guru di Casaleggio. Errori su certi nomi. Dunque polemiche ancora in casa dei 5 Stelle. Siamo al Corriere della Sera. Anche qui il titolo principale, vedete con corredo di foto, riguarda la conquista, la riconquista da BIC. Liberata da BIC per l'ISIS era la città dello scontro finale. Poi tasse e cartelle. Le nuove regole. Abbiamo visto anche cosa cambierà con Equitalia. Siamo al Fatto Quotidiano. 8 miliardi di mance per il sì. Manovra dal canonerai alle scuole cattoliche. Soldi subito. Per gli indecisi. Proseguiamo. Siamo al Quotidiano Libero. Da un flop all'altro. Veltroni fa il becchino. Questo è il titolo un po' provocatorio di Libero. L'esordio di Dieci cose. Il programma ideato da Walter al costo di un milione appuntata. Fa crollare il sabato sera di Raiuno. Leggiamo qui dalle pagine di Libero. Ormai per Viale Mazzini all'Armerosso. I nuovi vertici non ne azzeccano una. E poi le confessioni di Massimo Giletti. Non mi amano e me ne vanto. Mi sopportano per gli ascolti. E poi ritroviamo anche qui su Libero il titolo che riguarda Equitalia. Equitalia abolita ma c'è il trucco. Sul condono. Gialetta ha fallito. E poi in basso. A proposito di sport. Visto che oggi come ogni lunedì nella seconda parte tratteremo in maniera ampia proprio lo sport. In particolare il calcio. Pazza Inter suicida. Attacca Icardi. E perderà anche lui. Polemiche in casa nera azzurra. Mentre dall'altra parte nell'altra metà di Milano si esulta per la vittoria del Milan. Ieri sera nel posticipo per 3 a 1 al Marcantonio Bentegodi contro il Lecchievo. Siamo al mattino. Equitalia ecco chi ha lo sconto. I contribuenti coinvolti sono 20 milioni. E poi Isis e clan. In chiesta sui tesori rubati e poi di spalla si parla di calcio. La crisi del Napoli considerando che è il mattino quotidiano proprio di Napoli. Perché cambiare schema adesso non è un'eresia. E poi si parla anche di Gabbiadini che non è riuscito al momento a sostituire degnamente il polacco Milik. Che è infortunato. Ne avrà almeno per 4 mesi. Siamo alla gazzetta del mezzogiorno. La manovra. All'esame europeo calano le tasse. Sale il deficit sotto osservazione le misure. Una tantum. Renzi ai critici. Le coperture ci sono. Evasione fiscale di 109 miliardi all'anno. Siamo al secolo XIX. Il quotidiano di Genova. Manovra. L'Unione Europea gela Renzi. Numeri diversi dalle attese. La replica. Diamo una mano sui migranti. E poi vedete a centropagina l'annuncio del Cardinale Bagnasco. Lo aspettiamo il prossimo 27 maggio. Perché Papa Francesco arriverà a Genova. E ci sarà la visita proprio il prossimo 27 maggio. Nella città Ligure. E poi in alto il richiamo che riguarda lo sport. In questo caso le formazioni genovesi. In particolare il Genova perché la Sampdoria aveva giocato sabato e pareggiato come detto a Pescara. Genova occasione sprecata con l'Empoli e nervi tesi fuori Juric e Lazovic. Genova che aveva avuto due spulsi anche nella gara con il Pescara giocata Luigi Ferraris. Siamo alla stampa di Torino. Sulla manovra il gelo dell'Europa. L'Unione Europea non era quel che ci aspettavamo. Il Premier Matteo Renzi risponde. Diano una mano. Sui migranti. Siamo al quotidiano Il Tempo di Roma. I furbetti delle ambasciate. Vedete il titolo di apertura in alto. Lavori e servizi per le sedie estere in Italia. Mai pagati alle nostre aziende. E una legge voluta dal Partito Democratico. Mette al riparo da ricorsi e pignoramenti. E poi il calcio immobile salva la Lazio. L'ex pescarese in extremis. Segna sul rigore il gol che permette ai biancocelesti di pareggiare proprio al 96esimo contro il Bologna che si era portato in vantaggio. Il tempo era l'ultimo quotidiano in esame per quanto riguarda i giornali nazionali in edicola. Ma ovviamente si parla di sport. Non possiamo non andare a vedere insieme anche i titoli dei tre quotidiani nazionali sportivi. Oggi in edicola. Poi ovviamente nella seconda parte, come detto, parleremo ampiamente di sport in chiave locale. Partiamo da Tutto Sport, Brocchi a Mandorla. L'arrivo dei cinesi e i forti investimenti sul mercato non hanno risollevato l'Inter. Icardi rompe con gli ultra e sbaglia un calcio di rigore. Via la fascia da capitano. Il Cagliari passa a San Siro. Deber traballa. Vedete la faccia di Icardi, tutt'altro che sorridente dopo questa brutta prova dell'Inter. E poi vedete invece di spalla colpo Milan. Ora è secondo. La Juve nel Mirino, sabato prossimo a Milano, stadio San Siro. Si giocherà proprio Milan-Juventus. Vedete più in basso. Toro, riecco il super trio per volare. E poi Allegri, altro che Guardiola. Ovviamente si parla delle squadre torinesi su Tutto Sport. Vediamo ora il Corriere dello Sport. Il titolo di apertura riguarda ancora l'Inter. Il Putiferio, Maurito, riapre una clamorosa ipotesi. E se Icardi andasse al Napoli, questa è l'ipotesi, la domanda che si pone il Corriere dello Sport con l'Inter che precipita in casa con il Cagliari in alto. Vedete il Milan va fortissimo e sabato sfida la Juve. Come dicevamo, infine la Gazzetta dello Sport. Inferno Inter, dal caso Icardi al K.O. in casa con il Cagliari una polveriera, quella nera-azzurra. Invece a Milano sponda rosso-nera. L'umore è ben diverso perché il Milan con una squadra che sulla carta è stata poco rinforzata rispetto allo scorso anno sta facendo molto bene. Paradiso Milan vince con il Chievo e secondo sabato sfida la Juventus in fuga. Abbiamo visto dunque tutti i quotidiani nazionali, le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni del centro. Abbiamo visto anche la prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Ora possiamo andare a vedere le pagine interne che riguardano proprio le nostre province, la nostra regione. Ritornando e ripartendo dal centro, cronaca regionale. In questo caso si parla di pubblica amministrazione, di centri per l'impiego che ora rischiano la paralisi. Non c'è accordo infatti tra provincia e regione per il passaggio dei 177 dipendenti. Appello a far presto del comitato di pilotaggio del patto per lo sviluppo. E poi la Corte dei Conti, regione Sports System, dirigenti assolti del Turco e D'Amico. E poi in basso spazio all'infermiere di famiglia. Il punto sulle professioni sanitarie nell'incontro dell'Ipsavi a città Sant'Angelo. Andiamo avanti. L'abruzzese Mauro a caccia di talenti con Endewar Italia. Il manager pescarese guida infatti l'organizzazione No Profit che supporta le imprese ad alto potenziale di crescita. Ancora avanti. Siamo arrivati però alle pagine della cronaca provinciale dei nostri quotidiani. Allora possiamo andare a vedere l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro. Così vedremo le pagine che riguardano il capoluogo adriatico. Ovviamente oggi poche pagine rispetto agli altri giorni per quanto riguarda la cronaca sui nostri quotidiani. Perché gran parte delle pagine sono dedicate proprio allo sport. Allora ripartiamo dalla cronaca di Pescara del Centro. Si parla di sanità in questo caso, le spine dell'ASRE, così sono definite in questo articolo, in ferie fino al 30 aprile ospedali senza direttore. Il coordinatore delle direzioni mediche ospedaliere di Pescara Penne Popoli ha riposo in attesa del pensionamento. Allarme dei sindacati e un ulteriore vuoto. E poi giornata dell'osteoporosi, giovedì esami gratuiti da parte per le persone, i cittadini che vorranno sottoporsi alla MOC. E poi assistenza a casa, cambio gestione, l'assessore garantiti i 300 assistiti. Parla l'assessore alle politiche della casa, il neoassessore Antonella Allegrino. Andiamo ancora avanti con le pagine della cronaca di Pescara sempre dal centro. Ritroviamo l'argomento, l'articolo dell'apertura della prima pagina del centro edizione di Pescara. Sosta selvaggia allo stadio, multati oltre 100 tifosi, auto lasciate in mezzo alla strada, davanti ai garage e ai passi carrabili, pugno duro dell'amministrazione dopo gli esposti dei residenti della zona, oltre 100 multe. E poi in alto, corteo dello scientifico per la sede, protestano gli studenti di Leonardo da Vinci. E poi inaugurazione con il sottosegretario Lotti. Questa sera alle 17 verrà infatti inaugurata la nuova sezione del Partito Democratico di Villa del Fuoco, il nuovo circolo del PD, con la presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti. E poi siamo a Viale della Riviera, rimosso il galeone di Eriberto al suo posto. Ci sarà un busto e poi, bloccato dalla vigilanza privata e denunciato dalla polizia, l'ite in Piazza Muzzi, ventenne nei guai, è stato denunciato a piede libero per possesso di un coltello di genere proibito. Ancora problemi nella zona d'Enna Movida, in pieno centro a Pescara. Proseguiamo, premi e applausi alle eccellenze della medicina. Luminari d'Italia, riuniti nella sala Tinozzi della provincia, riconoscimenti agli abruzzesi, Mastro Pasqua e Presutti. Ancora cronaca da Pescara, in questo caso da Montesilvano, in particolare Malore in moto, si schianta e muore. Guido Mancinelli, 62 anni, ristoratore di Silvi, perde il controllo del mezzo e piomba nel parcheggio di un market colpito proprio da un malore. Non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi. E poi ancora a Montesilvano, furto di alcolici e spintoni, arrestato un 23enne. E poi all'orreto Prutino beve troppo e sviene in piazza, soccorsa questa persona, che è stata poi ovviamente portata in ospedale per le cure. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, malasanità in questo caso, farmaci salvavita negati ai non residenti, cerulli di cittadinanza attiva, dice Unica in Abruzzo, la delibera della ASD, Teatina, limita il diritto dei malati a curarsi dove vogliono. E poi si parla di università, vedete di spalla questo titolo in grigio, il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ateneo, Tenaglia, il rettore, dice, riveda le nomine. E poi siamo a Lanciano, traditi da pupillo dopo tanti cortei, gli ambientalisti contro il sindaco, che al referendum è schierato con il sì. E dall'area frentana, quella dell'Alto Vastese, del Vastese in generale, Grandinata ha chiesto allo stato di calamità, Villa Alfonsina e Casalbordino, uliveti e vigneti distrutti, almeno 80 auto da riparare e agricoltori feriti. Siamo alla pagina dell'Aquila, dell'Aquila provincia, dal centro, in questo caso il caso di Castel di Sangro, business immigrati picchiato a sangue, botte tra il gestore ed il proprietario di un villaggio turistico, l'Alite dopo il trasferimento dalla struttura di 30 stranieri. E poi Anziano cade e muore, mentre va a caccia. Siamo a Barisciano, la vittima è Anania Giannangeli, 71 anni, che è scivolato per 4 metri e ha sbattuto la testa. E poi in basso crea opere d'arte con la carta di giornale. Siamo a Sulmona e parliamo degli originali lavori del giovane Nino Di Pietro, apprezzati anche dalla cantante, dalla star della musica leggera italiana, Laura Pausini. E siamo alla pagina di Teramo, Alfano, sì, all'ultimo treno per cambiare il paese. Parliamo del referendum, del convegno che si è tenuto ieri a Teramo, organizzato dal nuovo centrodestra alla presenza del ministro degli interni Angelino Alfano. Vedete nella foto il ministro a Teramo per sostenere la riforma accanto alle imprese. Ballone, presidente regionale di Confindustria, una maggiore stabilità, dice, migliorerà l'economia. Oggi nel corso dei nostri appuntamenti con il TG6 vi proporremo un ampio servizio proprio sulla visita, sulla presenza del ministro Alfano ieri a Teramo. E poi crisi in comune, siamo ancora nel capoluogo a Prutino. L'assessore regionale Dino Pepe invoca le primarie del centro-sinistra, il PD Teramano si mobilita. E poi Giulia Nova, rianimazione chiusa per due mesi per lavori. E poi la cronaca, schianto tra due auto, grave una ragazza, alba adriatica, la 19enne operata in neurochirurgia per rimuovere un'ematoma al cervello. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport. Possiamo andare a vedere insieme, dunque, l'inserto Abruzzo, le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. E come detto, poi, nella seconda parte del nostro appuntamento quotidiano di oggi, in particolare, ci dedicheremo allo sport per andare a vedere in particolare i servizi delle partite, delle formazioni abruzzesi impegnate nel campionato di Serie D. Allora, ripartiamo dal messaggero. Cronaca di Pescara, Piazza Muzzi, Movida Violenta. Vedete il titolo con corredo di foto. Un'altra notte, finisce in rissa, la polizia ha denunciato un ventenne, aveva con sé un coltello a Serramanico, è successo alle 2.30. Paura tra la folla, i gestori dicono preziosa l'azione. Dei vigilantes e poi terremoto e tangenti. La rete puntava all'Aquila. Parliamo dell'inchiesta che ha portato la settimana scorsa a sette arresti. Le carte prelevate dalla forestale fanno ipotizzare il coinvolgimento di più politici. Ora ci saranno gli interrogatori. E poi paura all'Oreto Prutino. È un giovane rischia il coma etilico. Si è sentito male in piazza, è stato soccorso. E poi portato in ospedale per le cure. E poi ritroviamo anche sul messaggero la tragedia accaduta ieri tra Montesilvano e Silvi. Si schianta in moto, forse un malore fatale. L'incidente che ha coinvolto Guido Mancinelli aveva 62 anni ed era appena andato in pensione. Siamo alla pagina di l'Aquila del quotidiano messaggero. Entro la fine dell'anno sarà approvato il piano del parco. Solo dopo si potrà partire con il progetto di sostituzione della seggiovia Fontari. Nessun integralismo ambientalista ma integrazione della comunità nella gestione. Dunque entro fine anno dovrebbe essere approvato il piano del parco. E poi il festival, un grande successo nel ricordo di Iannilli sempre all'Aquila. E poi la cronaca invece dalla provincia dell'Aquila, da Barisciano in particolare. Caccia fine settimana nero con un morto ed un ferito perché si è aperta la caccia nella nostra regione. Ieri c'è stata anche la morte di quest'uomo di 71 anni che è precipitato in un dirupo da un'altezza di 4 metri. Poi siamo allo sport, in questo caso al rugby di serie B. Paganica si riscatta e vince la formazione aquilana. Per l'Avezzano invece c'è stato il primo KO della stagione. Poi vedete l'evento Fai Marathon, tanti appassionati nei siti gioielli scelti dalla provincia. E siamo alla pagina di Avezzano sul Mona, piscina e polemiche. Giornata decisiva, siamo ad Avezzano. Il consigliere di maggioranza Iucci dice domani si decide sulla gestione. Parla di indebite pressioni. Amatilli, tace e poi ancora Avezzano, il rosone di Rosciolo esposto al British Museum a Londra. E poi si parla di politica. Parla il primo cittadino di Avezzano che dice la stati un ottimo assessore. Da Avezzano ci spostiamo a Sul Mona dunque nell'area Peligna. Presto pronto l'unico parco giochi cittadino. Si tratta dell'area realizzata all'interno del contratto di quartiere. In via Sallustio e dalle pagine di L'Aquila e Provincia ci spostiamo alla pagina di Chieti del messaggero. Affissioni abusive e pugno duro. Siamo nel capologo teatino. Maximulte fino a 1700 euro. Università invasa dagli annunci selvaggi. In corso i blitz della Polizia Municipale. Questo marcostume di attaccare, vedete anche dalla foto, i volantini proprio sugli alberi in particolare. Volantini per affittare una stanza su alberi, pali della luce, pensiline, delle fermate, dei bus. E poi siamo al maltempo. I danni per la grandinata. C'è stato un vertice con il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca. L'Unione dei Comuni attende dall'assessore regionale le prime indicazioni. Ci spostiamo poi ad Ortona. Riordino rete ospedaliera. Scaduti i termini per il TAR. Infine a Rocca San Giovanni, Noi Costa dei Trabocchi, spopola il gruppo degli amici. E siamo alla pagina di Teramo del Messaggero. Primaria di coalizione per il futuro candidato del PD. L'assessore regionale Dino Pepe lancia l'input. Il rettore d'amico La Sorpresa, gradito anche Renzo Di Sabatino, ma resterà in provincia. Tanti i nomi che arrivano dalla società civile. E poi il lutto si è spento l'ex assessore Aldo Pierangeli all'età di 81 anni. Invece spostandoci a Giulianova è stato inaugurato il nuovo campo Castrum. Subito ingresso per disabili, lo ha chiesto il comitato di quartiere e c'è il sì della ditta Pilotti. Poi Giulianova ancora, vigili non ancora pagati, protestano i sindacati. In basso Montorio si toglie la vita dopo aver salutato su Facebook un uomo di 41 anni ha lasciato l'abitazione con la sua auto. L'ultima telefonata fatta alla moglie. Infine Martinsicuro, pistola e giocattolo in pugno. Con questa pistola, poi risultata giocattolo, rapinano un supermercato. Siamo arrivati in questo caso anche alle pagine dello sport. Dunque possiamo fermarci per qualche attimo e andare a vedere insieme le previsioni del tempo. Poi torneremo in studio dopo qualche istante di pubblicità per la seconda parte, tutta dedicata come ogni lunedì alla pagina sportiva. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Andiamo a ricordare il santo che viene ricordato, viene celebrato oggi dalla Chiesa Cattolica, Sant'Ignazio di Antiochia. Ignazio soprannominato Teoforo, portatore di Dio, abbracciò la fede per opera degli apostoli. E particolarmente di San Giovanni, di cui fu discepolo prediletto. Ricevuta la sacra ordinazione, si distinse per le sue rare doti apostoliche, per cui gli apostoli lo consacrarono vescovo di Antiochia. Fu pieno di spirito santo e la parola di lui era dai fedeli, accolta quale oracolo del cielo. Zelante, pastore padre di anima, ebbe molto da combattere contro la perfidia dei giudei e il furore dei pagani, ma con il digiuno, la preghiera e la dottrina che possedeva riuscì a dissipare le tenebre dell'errore e dell'eresia. Anelava al martirio e lo raggiunse quando infierì la persecuzione di Traiano, il quale, conoscendo la fiorente chiesa di Antiochia, venne con il proposito di fare strage del pastore del greggio. Chiamò pertanto a sé Ignazio. E così lo apostrofò, sei tu quel demonio che infrangi le mie leggi? Nessuno diede mai questo nome ad un servo di Gesù Cristo, rispose Ignazio. Ma sappio, imperatore, che i demoni fuggono alla sua presenza. Tu dunque adori Gesù Cristo che Pilato fece crocifiggere? Di piuttosto che Gesù crocifisse il peccato per dare a coloro che credono in lui il potere di trionfare sui demoni e sul peccato. Impotente a vincere il fedele servo di Cristo, Traiano pronunciò l'ingiusta sentenza. Comandiamo che Ignazio, il quale si gloria di adorare il crocifisso, venga legato, condotto a Roma e dato in pasto alle fiere dopo aver servito come trastullo della plebe. Il santo Vescovo ringraziò il tiranno e legato partì per Roma, scortato da soldati che lo tormentarono in tutte le maniere. Passando per le città d'Asia e della Grecia, edificò le varie comunità cristiane con la parola e con l'esempio del coraggio. Durante questo viaggio scrisse sei lettere ai cristiani di Efeso, di Magnesia, di Smime, di Traila e di San Policarpo, incitando tutti a rimanere fermi nella fede e umilmente soggetti ai propri Vescovi, perché solo per essi riceviamo dal Signore le grazie. Scrisse anche una lettera ai Romani, dei quali temeva per l'affetto che gli portavano, che gli impetrassero la liberazione, mentre egli in un l'altro bramava che il martirio, infatti così scrive, sono frumento di Cristo e debbo essere macinato dai denti dei leoni. Se questi divenissero mansueti e volesse risparmiarmi, lo stesso li azzerò. Le mie catene gridino a voi di stringervi in un'incrollabile armonia di fede. E di preghiera giunse a Roma nell'anno 107 e gettato nell'anfiteatro, le fiere lo sbranarono, le sue reliquie furono portate ad Antiochia e da qui il nome di Sant'Ignazio di Antiochia che viene ricordato nella giornata del 17 ottobre dalla Chiesa Cattolica. Possiamo dunque, dopo aver ricordato il Santo del Giorno, aprire la pagina sportiva partendo dalle pagine del messaggero. L'apertura è dedicata al Pescara. Pescara reduce dal pareggio di sabato nell'anticipo di campionato con la Sampdoria. Passi avanti, ma ora arrivano due settimane di fuoco, progressi nel carattere in crescita Aquilani e Bybeck con Udinese, Atalante ed Empoli. Scontri diretti da non fallire. Dunque tre partite importantissime per il Pescara in chiave salvezza e domenica prossima Oddo recupera Zampano da valutare le condizioni di Verre. Possibile che torni disponibile anche Crescenzi mentre Coda sarà assente per squalifica perché ricordiamo è stato espulso proprio nella gara con la Sampdoria. Brugman parla il centrocampista uruguaiano e dice siamo tranquilli, sapevamo, di dover soffrire. Andiamo avanti. Siamo alla pagina che riguarda la Lega Pro. Teramo nei play-out la difesa a deluso con offri passi in avanti, ma il problema resta lo stesso. 13 gol al passivo, sono troppi. Sansovini in attacco da solo non basta. In alto si parla di volley, si ecortona a tanti giovani bravi ma serve continuità. E poi il calcio, in questo caso la promozione con il Giulianova che avvalanga, batte con cinque gol il Tossicia. E poi il basket, almeno per quanto concerne la Serie B. Campi e Teramo volano, Giulianova non si ferma. Vediamo i risultati della giornata di ieri. Teramo patti 70-60, Campi-Rimini 77-69. Giulianova-Ortona nel derby vittoria dei Giuliesi per 75-63. Brutta sconfitta, pesante, anche nel punteggio per l'amatori Pescara che esce con le ossa rotte, come si suol dire, dal parchè del Sansevero. Sansevero che si impone per 82-64. Siamo al campionato di Serie D. Bartocini gol, l'Aquila si avvicina la vetta. Vittoria di misura nel finale a Città di Castello per la formazione di Mister Morgia. E poi Chieti, altra umiliazione. Il Matelica passeggia 4-1 per la formazione matelicese. Formazione marchigiana di nuovo in testa alla classifica. E poi Pineto, buon pareggio per la prima di Amaulo. 2-2 a Castel-Fidardo. Tornando all'Aquila ci sono le dichiarazioni del 91esimo, del tecnico Massimo Morgia che dice abbiamo saputo pazientare fino all'ultimo. Proseguiamo. Bastese, prima sconfitta dal campo basso. Molisani passano per 2-1 sul campo degli Aragonesi. Felici, bene per il gol, ma meritavamo di più, dice l'attaccante della formazione bianco-rossa. E poi, tornando al girone G, Avezzano sarde ancora indigeste. Terza sconfitta consecutiva per le isolane. Tortora, il tecnico dell'Avezzano, condannati solo, dice, da episodi. Negativi, vediamo anche gli altri sport. Il rugby, l'Aquila vince il derby con la Gran Sasso. Finisce 26-20 per i neroverdi, tanti ex su entrambi i fronti. E poi il calcio a 5 perché ieri si è giocato il derby attesissimo tra Pescara e Acqua e Sapone con la vittoria dei pescaresi del presidente Iannascoli per 7-1 sulla squadra di Fuentes. Dunque vittoria nettissima per i biancazzurri. E poi, tornando al calcio di Serie D, si parla in questo caso del San Nicolò. San Nicolò che dopo la vittoria di domenica scorsa a Recanati ha segnato tre gol e battuto anche il Romagna Centro. San Nicolò di Massimo Epifani che si avvicina alla vetta. E siamo al basket di Serie A2. Giornata negativa per le due nostre formazioni. Il Roseto si arrende al Ferrara degli ex. Ferrara che si impone nettamente nella gara giocata in terra emiliana. E brutta sconfitta anche per la Proger Chieti. Il brusco stop a Trieste da Ross e Green letali 78 a 52 per la formazione giuliana. Dunque giornata negativa per Roseto e Chieti. Vediamo il dopogara. Partiamo dal Roseto. Di Paolo Antonio dice li abbiamo agevolati. Il tecnico, il coach della Proger Chieti Galli. Peccato di presunzione. E andiamo a vedere il calcio di eccellenza. Diamo un'occhiata a questo punto anche ai risultati della giornata di ieri. Campionato sempre interessante che vede un tris di squadre al comando. Vediamo comunque Alba Adriatica, Morrodoro 2 a 1. Amiternina, River Chieti 1 a 2. Capistrello, San Salvo 0 a 1. Cupello, Acqua e Sapone 6 a 2. Miglianico, Virtus Teramo 0 a 1. Montorio, Paterno 0 a 2. Nero Stellati, Pratola, Francavilla 0 a 0. Penne, San Buceto 1 a 0. Angolana, Martinsicuro 0 a 0. Vedete in classifica, Francavilla, San Salvo, Paterno 18, Martinsicuro 17, Nero Stellati, Pratola, Alba Adriatica, Acqua e Sapone 14, Cupello, River Chieti 11, San Buceto, Capistrello 10, Virtus Teramo 9, Angolana, Amiternina, Montorio 7, Morrodoro 5, Chiudoro, Miglianico e Penne. Con 4 punti. E vediamo, siamo arrivati alle pagine dello sport nazionale. Dunque possiamo lasciare il messaggero e tornare al centro per vedere anche in questo caso le pagine di sport. Ripartiamo dal Pescara, Campagnaro, fiducia al Pescara. Il difensore argentino a segno nella gara con la Sampdoria dice, siamo sulla buona strada, sorpresa Aquilani e il Biancazzurro che corre di più. Andiamo avanti e vediamo le due pagine relative al massimo campionato. Riparte lo Psicodramma, Inter sconfitta per 2-1 a San Siro dal Cagliari. E poi in basso, nell'anticipo, Roma che passa 3-1 a Napoli. Ieri 1-1 tra Lazio e Bologna, pareggio di immobile per la Lazio al 96esimo sul rigore. Poi il Milan non si ferma più, batte il Chievo ed è secondo, 3-1 al Bentegodi per i Rossoneri. E poi il Crotone sfortunato, il Sassuolo lo ribalta. Formazione calabrese che era passata in vantaggio a Reggio Emilia con l'ex lancianese Falcinelli. Poi nella ripresa in tre minuti il Sassuolo ribalta. Il risultato, Crotone che resta fermo ad un punto in classifica. E poi ancora 2-0 a 0 nelle gare Genoa-Empoli, Genoa che ha chiuso in 10 e Fiorentina-Atalanta. Proseguiamo, torniamo al Pescara. Il Pescara ora aspetta i rientri di Zampano e Verre. Biancazzurri ancora secco di successi. Domenica a Udine, prima sfida. Salvezza in basso, sorpresa. Aquilani corre più di tutti con la Sampdoria. Ha percorso 11,8 km. E poi parla il leader, Ugo Campagnaro, che dice siamo sulla buona strada. Siamo alla pagina della Lega Pro. Vedete il Teramo che si guarda dietro. Ora la classifica fa paura. Il cammino dei Biancorossi complicato dalla battuta d'arresto di Venezia. Ora il ciclo per ripartire. Sabato arriva a Teramo l'Albino Leffe, poi Gubbio e Mantua. Tutte formazioni che sono impelagate nella zona bassa della classifica. Siamo alla serie di Girone G. Gran cuore l'Aquila, l'ultimo tuffo. Intasca i tre punti, vittoria a Città di Castello per 1 a 0. E poi il Girone F. Settima piaga, anche il Matelica fa bottino pieno. Nero Verdi mai in partita contro i quotati marchigiani. Tensione a fine gara. Faella zittisce i tifosi della tribuna. E vedete al novantunesimo il capitano viscido dice non molleremo delusione nel gruppo. Il tecnico Mariani espulso. Resta in silenzio. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio relativo alla serie di questa netta sconfitta, l'ennesima, la settima consecutiva per il Chieti, battuto per 4 a 1 al Guido Angelini dal Matelica, il servizio di Valeriano De Angelis. La coccente sconfitta interna con la vastese ridisegna l'organico tecnico del Matelica che si affida ad un maestro di origine e di cuore teatino, Antonio Mecomonaco, costretto a vedere la gara in tribuna a causa di una squalifica della passata stagione. Fortemente motivato per rilanciare i colori bianco-rossi recentemente sbiaditi, il neotecnico si affida al rientro dell'ex nero-verde Vittorio Esposito. Dirigenza marchigiana ancora con gli occhi rivolti allo spettacolo della inaugurazione del nuovo campo sportivo, mentre quella teatina, più volte in settimana sollecitata telefonicamente dal sindaco Umberto Di Primio per un colloquio chiarificatore, indugia e si interroga su come ricomporre la situazione che vede la compagine di Mariani sempre più avvilita. Se l'attuale atmosfera calcistica della città teatina è annebbiata, quella sociale e culturale registra una pagina buia per l'atroce delitto di sette giorni fa che ha interrotto la vita di Fausto Di Marco, disincantato musicista, i cui sentimenti, puri e nobili, restano scolpiti nei cuori di quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue iniziative ed esibizioni artistiche. È stato ricordato anche il difensore Cristiano Pappalardo che ha vestito la maglia nero-verde negli anni 90, la cui vita è stata stroncata da un traumatico, violento episodio. Il signor Luciani dà l'avvio ed appena il tempo di incrociare le marcature in campo che il Matelica va in vantaggio con un insistito e tenace traversone di Boldrini corretto in rete dal nostalgico Vittorio Esposito. Ennesima furia per Mariani, sempre più consapevole delle disfunzioni difensive che i nero-verdi evidenziano di partita in partita, a volte appaiono attoniti ed impotenti, benché volenterosi di guadagnare la zona offensiva, come al ventesimo, genovese che ci prova ad indirizzare verso l'estremo bianco-rosso Marc Antonini. I marchigiani capiscono che la gara è in discesa, non strafanno, ma sono cinici nell'approfittare delle amnesie dei locali che subiscono la seconda rete con il classico contropiede. Al venticinquesimo con Pera, che si ripete tre minuti più tardi, ma su calcio di rigore. Fallo di trozzo sul funambolico Vittorio Esposito e l'attaccante ospite realizza. I pochissimi spettatori, per lo più parenti ed amici di famiglia, incoraggiano teneramente i ragazzi nero-verdi che ce la mettono tutta per limitare i danni. Il secondo tempo inizia con l'ingresso di Faccini al posto di Ceccarelli. Il neoacquisto Teatino, al terzo su calcio di punizione, impegna severamente Marc Antonini. Poi al sesto Zeetti chiama l'intervento di chiusura da parte dell'estremo marchigiano. Al decimo Mariani richiama Botticini, spazio ad Alessandroni. La manovra offensiva dei nero-verdi crea qualche disagio, ammortizzato senza affanni dai bianco-rossi che presidiano gli spazi nevralgici della manovra, bravi a ripartire e a cercare in velocità Pera che al diciannovesimo si invola. Mecca si oppone con autorevolezza. Nell'ultimo quarto d'ora ancora sostituzione dei locali. Fuori Genovese, dentro Perna. Di seguito anche gli ospiti sostituiscono Baldinini con Galli. Al trentesimo impennata dei ragazzi di Mariani che dimezzano lo svantaggio con Alessandroni. Applausi di stimolo per i teatini ma l'ennesima punizione dietro l'angolo. Galli arrotonda il punteggio dei marchigiani. Quattro minuti di recupero per decretare la prima vittoria degli uomini di Antonio Mecomonaco, confortare Faiella per l'infortunio e congedarsi dallo sparuto pubblico. Siamo all'Avezzano, altro tonfo. Avezzano, che ti succede? 3 a 1 per il latte dolce allo stadio dei Marsi. Terza sconfitta consecutiva per la formazione di Pino Tortora. Andiamo a vedere i riflessi filmati di questa gara. Prosegue la maledizione dell'Avezzano con le formazioni sarde, con la terza sconfitta consecutiva che fa suonare l'allarme in casa marsicana dopo l'ottimo avvio di campionato. E così dopo il Muravera e la Nurese anche il latte dolce Sassari conquista l'intera posta al cospetto dei Marsicani per l'occasione oggi in maglia arancione apparsi piuttosto spenti ma soprattutto spuntati. Una cosciente delusione per i tifosi avezzanesi che pur avevano sperato in un riscatto dei propri beniamini che però non è arrivato. Al settimo il primo acuto locale di Aquino che servito in aria tira però debolmente fra le braccia di Garau. Passa un minuto e tocca a Padovani con un pallonetto far correre un brivido alla difesa sassarese. Il canovaccio sembra ben delineato dei primi minuti con la squadra di Pino Tortora a fare la gara durerà però poco. I Marsicani in campo con una inedita maglia arancione spingono senza però scoprirsi. Al decimo però si vedono gli ospiti per la prima volta con un tiro insidioso di Palmas che costringe Lewandowski a salvare in calcio d'angolo. I Marsicani spingono ma al ventiduesimo arriva il vantaggio ospite grazie a Del Rio che di testa sugli sviluppi di un angolo approfitta di un'uscita avventurosa dell'estremo Marsicano mettendo il pallone in rete. Passa qualche attimo e c'è un grosso spavento con l'infortunio dell'attaccante ospite Luca Scogliamiglio che resta a terra per un paio di minuti prima di essere caricato su una barella e trasportato all'ospedale di Avezzano per una sospetta rottura del gomito. Dopo uno stop la gara riprende con l'ingresso in campo di Galante al posto dello sfortunato compagno. La formazione ospite non si accontenta e al 34esimo con un eurogoll in rovesciata di Palmas trova il 2-0 dagli spalti piove qualche fischio all'indirizzo dell'Avezzano che ha il merito di non mollare trovando così al 37esimo la rete del 2-1 grazie a Menna che di testa sugli sviluppi di un corner salta quasi indisturbato mettendo alle spalle dell'incolpevole Garau gara riaperta con i padroni di casa che iniziano a stringere da sedio l'area di rigore ospite i biancazzurri isolani con un po' di difficoltà riescono a reggere l'urto anche se al 50esimo Menna ancora di testa chiama Garau al miracolo in calcio d'angolo prima del doppio fischio di D'Angelo Di Ascoli che manda le due squadre negli spogliatoi sul 2-1 in favore dei sassaresi nella ripresa inizio a shock per l'Avezzano che al primo minuto subisce la terza rete ancora ad opera di Palmas con Lewandowski beffato anche dalla deviazione di un compagno per gli arancioni un colpo durissimo al cospetto di un latte dolce bravo a chiudersi al tredicesimo ci prova per l'Avezzano Aquino che però allarga troppo la mira spedendo il pallone fuori alla mezz'ora viene poi allontanato dalla panchina dell'Avezzano per proteste il tecnico marsicano Pino Tortora con i minuti che scorrono i veloci e con gli ospiti che senza strafare riescono a portare a casa i tre punti regalando all'Avezzano un altro pomeriggio da dimenticare e al novantunesimo squadra marsicana sotto la nord a colloquio con i tifosi che sperano in un pronto riscatto domenica prossima Sante Odoro ancora contro una formazione sarda Siamo di nuovo al girone F vastese che scivolone campo basso fa il colpo vedete il titolo 2-1 per i molisani allo stadio Aragona con qualche recriminazione per la formazione di Colavitto andiamo a vedere il servizio Applausi tanti e convinti per una vastesa che gioca bene costruisce ma non finalizza paga Dazio agli episodi e a un tantinello di sfortuna una beffa alla prima sconfitta stagionale nel primo giorno di campionato da capolista gli aragonesi sapranno crescere imparando dai propri errori bello il colpo d'occhio dell'Aragona Polverera carica di entusiasmo col campo basso e i suoi tifosi in brodo di giugiole per il colpaccio esterno si ricorda Vincenzo Cosco sugli spalti Tre d'Union che mette d'accordo entrambe le fazioni sul campo sarà poi battaglia in una sfida apertissima in tridenti a confronto e tante occasioni parte bene la vastesa con gli stessi interpreti della sfida vittoriosa al Matelica al terzo e subito traversa con Fiore poi la botta di Felice al decimo fuori di poco sulla destra ancora a scambio Felice Prisco che incrocia respinge il portiere molisano fuochi d'artificio al pronti via col campo basso che saprà riorganizzarsi col passare del tempo prima si salva Russo su conclusione di Improta poi l'episodio che spezza l'equilibrio ventunesimo il signor Bertozzi di Cesena ravvisa un fallo di mano del terzino Manisi contestatissimo dai padroni di casa rigore realizzato da Soranti è un buon momento per la robustezza del campo basso che finisce il tempo prima con un contropiede sventato da Russo in angolo su conclusione di Soudan sempre lui poi addirittura raddoppia con Fioretti solo Soletto che di testa non si fa pregare Vastese sotto shock assolutamente no i biancorossi di Colavitto partono a sprombattuto e riaprono il confronto già il terzo della ripresa su azione insistita propiziata da Prisco poi rifinita dalla botta di Felici aragonesi che accarezzano il pari al 12esimo con Fiore il portiere Palumbo salva porta e vantaggio Colavitto in arva l'offensiva con Galizia e Marinelli gli attacchi saranno insistiti e continui ma il campo basso arretra e si difende anzi al 41esimo e Fioretti al copiere la traversa scemano le forze si alza a bandiera bianca ma tra gli applausi convinti e già questo basta salvare la domenica il Pineto ci prova ma viene rimontato restiamo sempre al girone F prima di Amaolo in panchina con i biancazzurri raggiunti in 11 contro 9 a Castelfidardo la gara tra Abruzzesi e Marchigiani termina sul risultato di 2 a 2 Roberta Di Sante esordio agrodolce per il neotecnico biancazzurro Daniele Amaolo subentrato in settimana ad Ammazza L'Orso sulla panchina del Pineto che torna a casa con un pareggio dal Mancini di Castelfidardo che ridà un po' di ossigeno ai biancazzurri incapaci però di riuscire a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa moduli a specchio per i due tecnici che si affidano al classico 4-4-2 Amaolo non stravolge il modulo che si differenzia per 4 undicesimi dalla formazione schierata domenica scorsa dal suo predecessore parente tra i pali in luogo dell'indisponibile Mazzocchetti Gianmarino esterno basso a destra con le luoghi mediana con Esposito e Antenucci in avanti con Ragazzo che parte dalla panchina De Angelis che rientra oggi dalla squalifica deve rinunciare agli indisponibili Gaeta e Albanesi ma può contare sull'esperienza di Capitan Pigini e Maisto a centrocampo mentre in avanti spazio a Soragna e al giovane Alessandrelli i locali oggi in completo nero con i pinetesi in un'insolita tenuta verde approcciano meglio la partita al terzo Soragna fa le prove del gol ma defilato sulla sinistra calcia oltre la traversa un minuto più tardi è Cameni a provare la conclusione dal limite spedendo alto la partita si sblocca al quinto quando sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina Lodi mette in mezzo per la testa di Soragna che è ben appostato sul secondo palo in sacca palo interno e primo gol stagionale per il numero 9 bianco verde e lo stesso Soragna al ventiduesimo serve ad Alessandrelli la palla che potrebbe valere il raddoppio ma la girata centrale è preda di parente per vedere il pineto bisogna attendere il ventitreesimo quando su una ripartenza veloce Antenucci calcia di prima intenzione a tu per tu col portiere marchigiano che si salva in corner al ventiquattresimo Lodi ha la peggio su un contrasto ed è costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde al suo posto entra Massi che si posiziona esterno alto con Cameni che si accentra il pineto prova a reagire allo svantaggio ma fatica a trovare spazi anche perché il Castelfidardo si chiude bene e al trentaseiesimo è ancora Soragna a farsi pericoloso di testa ma parente è attento e blocca sul capovolgimento di fronte i biancazzurri trovano il pari punizione di cacciatore dalla tre quarti a cercare Sposito che di prima intenzione piazza al volo la girata vincente sotto l'incrocio opposto terzo gol stagionale da applausi per il centrale biancazzurro che vale l'uno a uno parziale con cui si rientra negli spogliatori nella ripresa il pineto torna in campo con più determinazione e al dodicesimo ribalta il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione l'arbitro Zucchetti di Foligno vede un colpo proibito in area ai danni di Antenucci ed estrae il rosso diretto all'indirizzo di Bordi decretando il rigore che lo stesso Antenucci prima si fa respingere da De Gennaro per poi ribadire in rete e siglare il primo gol stagionale il pineto ora in vantaggio potrebbe sfruttare la superiorità numerica invece si fa raggiungere immediatamente dopo appena due minuti incassando il contropiede vincente Di Maisto che vede parente leggermente fuori dei pali e lo supera con un pallonetto che fissa il risultato sul 2 a 2 ora però gli ospiti con l'uomo in più cercano di spingere sull'acceleratore al ventunesimo potrebbero passare nuovamente in vantaggio quando Cacciatore pesca Antenucci che però defilato si trova la strada sbarrata da De Gennaro e un assedio pinetese nel finale al trentaduesimo sugli sviluppi di un'azione che parte dalla destra con la punizione di Esposito Stacchiotti di testa sfiora il palo con la sfera che esce di un niente al trentottesimo piove sul bagnato per il Castelfidardo che perde anche Massi per questo fallo ai danni di Ciarcelluti secondo Cartellino Rosso e Martigiani che restano in nove la partita si innervosisce e a farne le spese sono De Angelis e il suo vice Polci che vengono allontanati entrambi dalla panchina nel finale Amaolo richiama a sé Gianmarino e getta nella mischia anche Ragazzu passando al 3-4-3 e tentando il tutto per tutto al 41esimo Antenucci va in gol di tacco ma la rete viene annullata per offside e l'ultima occasione termina così con la contestazione dei tifosi marchigiani nei confronti della Terna ma con un pareggio che ci può stare e che permette ad entrambe le formazioni di tornare a fare un piccolo passo in avanti in classifica e chiudiamo andandoci a vedere con Ania Cantagalli il servizio relativo alla vittoria del San Nicolò in casa con il Romagna Centro per 3-0 dopo tanta attesa due pareggi ed una sconfitta arriva contro il Romagna Centro la prima vittoria casalinga del San Nicolò finisce 3-0 per la scuola di Epifani che festeggia così i primi tre punti in casa della stagione rispetto alla vittoria contro la Re Canatese Epifani inserisce dal primo minuto Bisegna e di conseguenza De Cerchio accanto a Petronio nel Romagna Centro dei Giovani tutti gli occhi sono puntati su Daniele Ferri già killer del Pineto la gara però è soporifera per la prima mezz'ora il San Nicolò non trova le geometrie giuste per via di una manovra troppo lenta e neanche dalla parte degli ospiti le cose vanno meglio ci pensa Stivaletta migliore tra i suoi nelle prime fasi alla Camomilla a suonare la sveglia il giocatore Vastesi impegna centralmente Bussi al 29esimo estremo difensore provvidenziale quando Napolano e Bisegna si ricordano di essere giocatore di qualità e sfiorano il gol con l'ex Avezzano fermato sul più bello la rete è nell'aria e arriva grazie ad un inserimento di Stivaletta che raccoglie una palla in aria e deposita alle spalle di Bissi la gara così si rianima e lo stesso fa Napolano che dalla distanza trova qualche minuto dopo un bellissimo gol che porta il San Nicolò a riposo sul doppio vantaggio di Romagna Centro può subito entrare un attaccante indelicato per un centrocampista e provare così a riaprire la contesa e Bussaglia a sfiorare effettivamente la rete dopo pochi minuti con un tiro a giro che finisce alto dopo una palla persa dai Biancazzurri il San Nicolò subisce per qualche minuto perlomeno nella fase di possesso e poi reclama un calcio di rigore per un atterriamento in aria di traile che però per il direttore di gara è simulazione dell'attaccante Biancazzurro qualche istante dopo è Bisegna da calcio di punizione a sfiorare il tris per il San Nicolò l'ex Avezzano trova finalmente fortuna al diciannovesimo quando insacca dalla distanza alle spalle di Bissi con il Romagna Centro che sembra ormai aver staccato la spina prima della fine c'è il tempo solo per vedere l'estremo ospite opporsi prima a Traini e poi a Napolano per il San Nicolò è il primo successo casalingo stagionale con la squadra di Epifani che si prepara adesso per la trasferta di Campobasso con questa scorpacciata di reti siamo giunti al termine dell'appuntamento di lunedì con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo di TV6 alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti